Ciao ragazzi, sono sempre Roberta, istruttrice dei centri sportivi CSC. Oggi andremo a fare un allenamento cardio abbastanza intenso, soprattutto se lo farete bene. In cosa consiste? Allora, abbiamo due round, due circuiti. Ogni circuito è composto da sei esercizi. Ogni esercizio verrà tenuto per 30 secondi. Non ci saranno pause, c'è uno dietro l'altro. E alla fine di questi sei esercizi ci saranno 15 secondi di pausa. Ogni circuito verrà fatto per tre volte. Però, secondo me, è più facile farlo che dirlo. È anche un po' più faticoso. Quindi, ok, partiamo con un riscaldamento e poi carichi. Avete bisogno solo del vostro corpo e, se volete, dell'acqua, che durante le pause non fa mai male. Buon divertimento, divertiamoci, sudiamo a manetta e si inizia. Corsetta, tranquilla. Durante questo riscaldamento vi farò vedere alcuni esercizi che poi ritroveremo nei circuiti. Questo perché così velocizzerà tutto. Saremo molto più veloci nei cambi e sarà più intenso. Allora, corsa. Quattro, tre, due, divanco. Caccia a sedere. Vai. Quattro, tre, due, chiudo. Ancora, quattro, tre, due, apro. Quattro, tre, due, marcio. Ora, calcio a sedere. Curl. Quando sto in centro, scelgo leggermente. È un piccolissimo squat. Invece che star dritti, scelgo, scelgo. Va, 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 va. Ancora. Quattro, tre, due, porta avanti il ginocchio. Quindi su, su, su. Se riuscite a far arrivare il ginocchio alla gola, sapete? No, scherzo. Dai, su, su, su. Stiamo scadando con gli angoli. Quattro, tre, due, doppio. Due a sinistra, due a destra. Uno, due. Uno, due. Uno, due. Uno, due. Ancora. Uno, due. È ancora singolo. Vai. Uno, uno, uno. Uno. Vai e quattro, tre, due. E ricomincio una corsetta. Corro. Un esercizio che andremo a fare è molto semplice. Ginocchio. Destro. Sale. Le mani toccano il ginocchio. Tocco, tocco, tocco. Ma, ancora più bello? Saltato. Vai, vai, vai. Quattro, tre, due. Cambio. Senza salto. Tocco, 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 tocco. Quattro, tre, due. Saltato. Vai. Lo teniamo per pochissimo. Dai. Quattro. Tre. Due. Corro. Vi state un po' scaldando? Spero di sì. Un altro esercizio che andremo a fare è questo. Gamba destra avanti. Gamba sinistra dietro. Uno. Due. Tre. Tocco. Uno. Due. Tre. Tocco. Uno. Due. Tre. Tocco. Com'è? Uno. Due. Tre. Tocco. Uno. Due. Tre. Tocco. Uno. Due. Tre. Tocco. Uno. Due. E corro. Ok? Questi in realtà sono gli esercizi un po' più così. Tutti gli altri sono molto semplici. Twist. Questo non ci sarà. Questo lo facciamo noi adesso. Va. 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 Quattro. 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 Tre. Due. Già. Lungere. Vai. Va. Su. Venite. Braccia. Vai. Ora. Siamo verso la lingua di scaldamento. Quello che faremo e che ci sarà poi nei circuiti, io lo chiamo sciatore. Ragazzi, con le braccia. Qui insieme. Va. 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 Ok? Sceatore di fondo. Ancora. Va. Va. Quattro. Tre. Due. E torna al jumping jack. Bene. Ragazzi. Ci siamo. Esercizi. Ancora. Quattro. Quattro. Due. Con. Pianissimo. Respiriamo. Io prendo il cellulante o il timer. Continuo a correre. Ragazzi. Si parte. Quindi. Sei esercizi da 30 secondi in uno. Il primo esercizio è facilissimo. Pronti? Quattro. Three. Two. One. Skip. Gambe alte. Ragazzi. Veloci. Andiamo. Sono solo 30 secondi. Siamo in metà. Siamo in metà. Siamo in metà. Sono bene il pantino. Vai. 15 secondi. Siamo in metà. Su. Respirate sempre. Vai. Vai. Girocchio destro. Su. 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 Se non riuscite a saltare potete stare giù. Nel caso. Su. Su. Vai. 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 Su. Su. E mi viena la gamba. 30 secondi. Vai. Vai. Su. Su. Molto. Guardate. Tre. Due. Cambio. Girocchio. Vai. 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 Ragazzi. Se volete anche andare di te. veloci di me. Fatelo. Andate alla vostra velocità. Se andate un po' meno veloce. Molto male. la scherzo. No. Dai. Cinque. Quattro. Tre. Due. Jumping jack. 30 secondi di jump. E' un po' meno veloce di jump. Viena. Se volete. Braccia su. E questo è il primo giro. Viena. 10 secondi. Vai. Tre. Due. Uno. Acqua di dietro. Saltando. Ok? Scambio. Scambio. Cambio. Cambio. Vai. 20 passi. No. Senti. Poi ne manca uno. Vai. Giù. 4. 3. 2. Uno. Acqua. Corsa. Ragazzi, ben livello. Attuminali. Bene forti. Andiamo. Andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. Girocchi al pezzo, eh. Vieni, 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 vieni. Sette secondi. Due. Uno. 15 secondi di pausa. Ragazzi, si rifà tutto. Come va? Il primo è arrivato. Un. Pronti? Due. Skip. Andiamo. Vieni, vieni. Non piante. No. Su. Su. Niam, 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 niam. Niam, niam, niam. Non piante. D'acqua, come va bene. Sette secondi. Sette secondi. Sette secondi. su 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 15 secondi portiamo l'altra gamba vai resti alto 2 1 cambio vai bello alto come se dovessi dare un calcio per l'altra finisce vai su 1 2 3 2 1 jump 2 1 1 1 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 2 1 2 3 2 2 1 4 5 6 5 6 7 7 5 7 8 9 9 10 10 10 10 11 10 11 11 11 12 12 11 12 12 11 12 12 12 12 13 13 15 15 15 15 15 16 15 Ultimo giro di questo circuito. Pronti? Tre. Skip. Via. Via, vabbè, vabbè. Pensate che è l'ultima volta che lo fate. Pensate solo questo. Vai. Opa. Quindici. Dai, ragazzi. Andiamo, 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 andiamo. Tre, due, uno. Ginocchio. Vai, vai. Opa. Opa. Dai. Quindici. Vi abbraccia importanti a non tenere a fermi. Quattro. Muovere. Tre. Dai. Quattro. Tre. Due. Cambio. Vai. Lo vedete sempre. Che è tutta salute. Vai. Dopo di questi. C'è giampa. Ok? Va. Dieci secondi. Che non sono in niente. Due. Uno. Giampa. Guarda. Guarda. Vai. Così ci rilassiamo un po'. Vai. Alla fine di questo, nel terzo, un minuto di riposo e si ricomincia con il secondo round. Ok? Dopo la figgia. Appogli. Ammio. Tre. Due. Uno. Appogli. Giù. Ok? Vai. Vai. Ci rilassiamo. Vai. Stavo dando attenzione. Vai. Dai. Dieci secondi. Undici. Poi, a terra, corsa. Ok? Tre. Due. Uno. Giù. Corro. Vai, vai, vai. Ragazzi, cercate di correre il più veloce possibile. Andiamo. Andiamo. Dieci secondi. Tendere basso. Dieci. Nove. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. Ok. Un minuto di pausa. Potete bere. Ok. Bevete? Asciugatevi. e si parte poi. Scusate. Sono uscito un attimo. Per prendere. Oh. Ragazzi. Bravi. Spero. Ok. Prendete piatto. Se riuscite a stare in piedi. Non sedetevi. Ancora pochi secondi. Allora. Il prossimo circuito inizierà con questo esercizio. Accomaccio. Mani dietro. Salto. Ok. Salto. Pronti? Mi dispiace ragazzi. Pronti? 5, 4, 3, 2, 1. Ancora. Ok. Vado. Accomaccio salto. Staccate i piedi da terra. Vai. 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 15 secondi. Un minuto di pausa. Staccate i piedi da terra. Noni. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 3. 2, 3, 2, 3, 2, 3. 2, 3, 2, 3. vai 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 un ragazzi scettore vai sai che fa ridere? non serve per i ciccoli vai cinque salta la foglia ma anche le braccia si muovono vai salta, salta quindici potete anche fare destra e sinistra come volete cinque quattro tre due ora un salto avanti un salto indietro avanti indietro avanti in squat avanti mi stanno perdendo in pantalma vai dieci secondi quasi vai 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 tre mani a terra apri e chiudo danni veloci dai apri e chiudo mani a terra mani a terra la notte mai più scenderà cinque quattro quattro tre due e quattro e quattro secondi riposo finiscono subito ragazzi si riparte accolacci salto vai continuate se non ce la fate va bene i jant voi continuate a farlo ok se non riuscite a fare questo va bene anche i jant normali vai 15 secondi 2 scambi tocco tocco 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 tocco va 10 secondi 2 chiudore vai ragazzi non mollate qua ci sono i salti corda 3 2 1 guarda 3 guarda 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 salto 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 prossimo salto in avanti salto in avanti salto in avanti chi si vuole anche le mani anche le tappi fateci tenere la corda una seconda salto avanti dietro secondo giro secondo giro ne manca solo uno e poi abbiamo finito vai 12 secondi 2 a terra apri più vai sentire basso 10 secondi 5 4 3 2 pausa grazie ultimo 4 non mi sento davvero ma si inizia subito qualche bacio salto via l'ultima volta che lo faremo dai ricordatevi che siamo riusciti a farlo ma bene i jump belli veloci ma torci ecco è finita 3 2 1 3 cambio tocco tocco 1 2 3 1 2 3 1 2 3 fate toccare i piedi eh 15 fate allora 30 secondi eh 2 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 Anche questo Ultima volta Dai Pensate che quasi finita E respirate Sei Tre Due Salto corda Poi ci sono I salti in avanti e dietro A te l'apia chiudo E basta E' finita Cinque Quattro Tre Due Avanti In ultimo Vai 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 Se volete aumentare un po' aumentate Avanti 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 10 secondi E Tre Due Ragazzi ultimo Apri e chiudo Se riuscite Aumentate un po' la velocità Andate Andate 15 secondi E' finita Giù Giunti Dieci Quattro Tre Due E sta Oh Grandi Ragazzi Bevete Bevete Asciugatevi Come andata Spero bene Io sono Lavata Però felice Ok Ragazzi ci mettiamo un attimo in piedi E Facciamo Due secondi Due minuti di stretching Prima di tutto Inspiro Espiro Inspiro Prendo la gamba destra E allungo Porto il tallone Il gluteo Tiro qua Deci Tengo Quattro Tre Due Appoggio Appoggio il piede destro Mano sinistra Va a prendere la punta del piede E allungo Stiamo a sinistra piegata Allungo Tengo E arrivi a metti chiave Quattro Tre Due Appoggio Cambio Sinistra Senza cadere come me Tengo Mi lo vi vieta poi Se volete Visto che ormai è nientissimo Lo sapete Lo sapete Fare Il primo Blocco E il secondo Blocco insieme Facendo diventare 12 esercizi Uno Di chieda Vata Ognuno Dei quali Lo fai durare Sempre 30 secondi E invece appunto Di farne 6 Ne fate 12 Questa è una vera interpretazione Se Sentite che avete lavorato poco Che non avete sudato Che non avete faticato Quello che vi consiglio è di fare Ok? Vedete voi Non vale invece Perché è stanco di mentare E fare il round da 3 Invece che da 6 esercizi Bene Unisco i piedi E scendo Cerco di toccare terra con le mani Se non vi lasco Non è un problema Non è un problema Così Tanto i pregami Siamo tese Anche se non arrivate a terra con le dita Non è un problema Quattro Tre Due Piego Leggermente le gambe Lentamente Salgo Testa per ultima Ok Sciolgo Un bel respiro Ancora Espiro Espiro L'ultimo E stop Ti ringrazio tanto Anche per la sudata Ci vediamo presto Un abbraccio E buon tutto Ciao ragazzi Ciao Ciao Ciao